Taranto, Viale e Ionio, siamo dinnanzi a una bruttura, a un ennesimo scempio, a un'immagine che fotografa il degrado. Alle mie spalle, infatti, lo vedete, una struttura abbandonata, era un manufatto, un immobile che non ha avuto più continuazione, con tanto di lamiera arrugginita. Irene Lamanna, presidente di associazione Taranto Turismo, saranno anni e anni che questo scempio è alla vista di tutti. Sì, ormai anche per questo sono passati diversi anni e confidavamo in realtà in questa amministrazione che vanta di essere migliori di tutte le altre. Vi siete un po' illusi, siete stati un po' incauti nella valutazione. Abbiamo agito in buona fede e quindi speravamo nella loro buona volontà e nella loro capacità nel risolvere tutti questi problemi che abbiamo annoverato finora. Però purtroppo sono ancora tutti presenti e comunque continua la faticenza del nostro territorio con appunto lamiere di ferre, e comostri in città, e comostri sul passeggio, per non parlare poi ovviamente di tutta la vegetazione che cresce intorno a questi e comostri e che ovviamente nessuno si preoccupa di andare a risanare e a ripulire. Però noto con piacere che c'è un passo carabile, quindi vuol dire che almeno 55 euro all'anno il comune da questo e comostro li recupera. Poi io mi domando, ma in queste condizioni noi vogliamo fare turismo a Taranto? Cioè il turista passa e vede una situazione del genere. Penso che porterà con sé un brutto ricordo di Taranto, quando invece Taranto è bella. Ma chi ci amministra evidentemente è amministrativamente brutto.